Analisi della concorrenza. Oggi voglio parlare di questo tema che è estremamente importante, pochissime persone si concentrano e dedicano del tempo all'analisi dei propri concorrenti. Il punto però è che facendo un'analisi tutto sommato, non voglio dire superficiale e nemmeno troppo approfondita, però si tratta di identificare quali sono le motivazioni per cui delle persone acquistano da questi due concorrenti. Quindi in un modo o nell'altro cercare di identificare i loro punti di forza e per farlo è tutto sommato semplice, è sufficiente analizzare ad esempio i loro profili social se li hanno e guardare i commenti delle persone. Spesso facendo questa semplice azione si riescono a scoprire tantissime qualità che le persone attribuiscono ai tuoi concorrenti. Successivamente dovresti fare la stessa analisi anche su te stesso, quindi perché le persone comprano da te. Questo è importantissimo perché ti permette di iniziare a fare dei paragoni, dei confronti, identificare quali sono le azioni che puoi fare per migliorare il tuo prodotto, il tuo servizio e cercare di andare incontro alla clientela, ovviamente senza denaturarti. Un esercizio molto semplice che puoi fare, credo di averlo già riportato nelle pillole, comunque un esercizio che propongo di fare nel mio corso la tecnica dell'incantatore di serpente e non si tratta altro di aprire Amazon, cercare, faccio l'esempio in quel caso di prodotti per dimagrire, quindi tipo beveroni o pasti per dimagrire eccetera. Ho utilizzato quell'esempio perché è un problema molto sentito e rende bene l'idea. Quindi apri Amazon, fai una ricerca cercando prodotti per dimagrire, barrette energetiche per dimagrire, insomma qualcosa a riguardo. Cosa succede? Che tu trovi tra i primi risultati i prodotti più venduti, quelli che hanno tantissime recensioni, quindi scorri i primi 4-5, quelli che ritieni opportuni e appena ne vedi uno che ha tantissime recensioni lo apri. A questo punto vai a vedere le recensioni e concentrati sulle recensioni 5 stelle e le recensioni a 1 stella. In queste recensioni tu troverai un pozzo infinito di informazioni. Troverai che le persone dicono sì tutto buono ma vai a dormire con la fame e è insostenibile riuscire a fare una dieta di questo tipo. Perfetto, hai già identificato un problema che il tuo prodotto magari risolve. Oppure ho provato a berlo ma ha un gusto disgustoso come si fa a bere una cosa così. Perfetto, questo è un altro problema su cui potremmo lavorare e cercare di andare a porre il rimedio con il nostro prodotto o servizio. Oppure, magari nei voti 5 stelle, questo prodotto è fantastico perché dopo averlo mangiato la sera non ho fame. Invece quando provavo altri prodotti andavo davvero a letto con i crampi e era una cosa non sostenibile. Quindi riesci a identificare alcuni punti di forza. Questo è un modo, ripeto, molto elementare ma di un'efficacia pazzesca per capire quali sono le motivazioni che spingono le persone ad acquistare un prodotto guardando le recensioni migliori e guardando le recensioni in una stella, quelle che invece allontanano i clienti. Quali sono i problemi che queste persone hanno che non riescono a risolvere. E analizzare i problemi di un mercato e proporsi come soluzione solitamente è la prima chiave o meglio è il modo più facile per riuscire a raggiungere il successo nel momento che ti poni come soluzione a quei determinati problemi. Quindi è una cosa che consiglio di fare. Ma allo stesso modo puoi analizzare se hai un ristorante, ok, hai un competitor, sei un pub immaginiamo. C'è un altro pub che va fortissimo, ok, vai a vedere anche lì le recensioni che questo pub ha. Magari scopri che fa di primi buonissimo oppure c'è il DJ che è bello, bravo. Non lo so, possono essere veramente un miliardo le motivazioni, un'ottima scelta di birra. Insomma fare questa analisi molto veloce ti permette già di avere un'idea della direzione in cui ti puoi muovere. Quindi individui i problemi e puoi proporti come soluzione. Oppure individui quali sono le cose che spingono i clienti a scegliere i tuoi concorrenti e puoi valutare se lavorare su questi aspetti per fare un attacco frontale. Quindi cercare di potenziare il tuo prodotto o servizio negli stessi punti di forza del tuo concorrente per cercare di passargli sopra. Questa è una strategia che richiede un investimento un po' più impegnativo sia in termini di costo che di denaro. Ho fatto una comunicazione apposta. Bisogna essere un pelo strutturato in un'azione che si può assolutamente fare soprattutto per qualunque tipo di piccola attività. Quindi la cosa che ti consiglio di fare oggi è quella di fermarti un attimo, fare un'analisi dei tuoi concorrenti e ripeto è sufficiente andare a vedere recensioni positive e negative a quello che le persone insomma scrivono di questa attività e troverai un miliardo davvero di informazioni. Fallo e poi mi ringrazierai. Con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, per chi ha mai provato a fare un business plan sicuramente si sarà imbattuto nella SWOT analysis, quindi l'analisi dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce. E diciamo che fare questa analisi che ti ho suggerito io è una sorta di SWOT analysis molto più semplice da fare, molto meno impegnativa ma che ti dà davvero davvero tante informazioni e a livello di investimento richiesto in termini di tempo e di sforzo è veramente minuscola paragonata all'informazione che puoi ottenere. Quindi provalo e ripeto mi ringrazierai, ne sono convinto. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!